Diffidate da coloro che non sanno ridere e soprattutto... Avete capito ciò che sottintendevo? Che Bersani, Veltroni e Di Pietro non ridono mai. Presidente, le porto o male? Lasciamela dire perché è troppo bella. La potete raccontare a casa, così portate una cosa. Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle ande. Führer, devi tornare, la democrazia è fallita, ti aspettano tutti e per tre giorni... E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta... Cattivi, eh? E con questo abbiamo sistemato, oltre al comunismo, anche il nazismo. Grazie. 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 Grazie.